I brindisini, almeno stando a ciò che si sente a ogni angolo di strada, non vogliono più sentire parlare di piste ciclabili. Intendiamoci, nessuno rinnega l'utilità dei percorsi riservati ai ciclisti, ma quanto accaduto in Viale Aldomore e in Viale Balmino Togliatti ha creato davvero tanto malcontento. La precedente amministrazione, infatti, ricevette un finanziamento per realizzare una pista ciclabile su questi due viali di accesso alla città, ma quando poi si è messo mano ci si è resi conto che la creazione di una pista ciclabile con tanto di cordolo di contenimento avrebbe provocato un restringimento della careggiata e la perdita di decine e decine di posti auto. A questo si aggiunge che dove è stato montato il cordolo è bastata un'auto parcheggiata male per determinare un blocco della circolazione con la impossibilità di transitare anche i mezzi di soccorso. Alla fine l'attuale amministrazione, dopo il rimpasto in giunta, ha avuto il coraggio di dire basta e quindi di bloccare definitivamente i lavori per utilizzare il finanziamento altrove e più precisamente a Nerione e la Rosa. Adesso però, ancora prima di provvedere al ripristino della situazione preesistente in Viale Aldomoro e in Viale Balmino Togliatti, sarà necessario attendere l'autorizzazione alla modifica da parte del Ministero dell'Ambiente. E non è tutto. Saranno realizzati altrove anche tratti di pista ciclabile inizialmente progettati per il centro storico, perché le dimensioni delle strade avrebbero determinato gli stessi problemi. A questo punto, pertanto, non resta che aspettare per vedere risolto un problema che sta molto a cuore ai Brindisini.